Buonasera a tutti, vi aspettiamo domenica alle 8, ci sarà anche lui, ci sarà anche lui, ci saremo noi due, direi di sì, spero, Don Pasquale Circus, Simone Barbato, il caprone del Kashmir, il teatro Chiavrera, ciao teatro, ciao, e Simone Barbato, lui è Don Pasquale, io sono Ernesto, lo dico io. Andrea Nicolini, lo dico da solo. Digestivo, bravo, bicarbonato, bicchiere, cucchiaino, cavallo ad ondalo, ponte, più su. Circus, allora Circus, Circus perché è quasi un circo, perché ci sono due clown e la classica situazione del clown tra il clown più dolce e il clown più cattivo è una situazione di sottomissione e quasi di violenza, che ci ricorda un po' Beckett e infatti noi siamo circensi ma più verso il teatro dell'assurdo di Aspettando Godot. Lo spettacolo ci è venuto in mente perché è da un po' di tempo che vogliamo lavorare insieme, abbiamo due estrazioni, se vogliamo, diverse. Simone è un cantante, oltre che essere un bravissimo mimo che tutti conoscono, quindi abbiamo da un po' di tempo detto, ma perché non lavorare su queste cose? In più io, oltre che un attore, sono un musicista, scrivo musica, suono qualcosa, quindi abbiamo messo insieme in questa direzione le nostre capacità. Grazie a tutti.